Sarà il ballottaggio di domenica 17 ottobre a decidere chi tra il sindaco uscente Pasqualino Piunti ed Antonio Spazzafumo si sedierà sullo scranno più alto del comune di San Benedetto del Tronto. Ampio il consenso ricevuto da Piunti che ha chiuso il primo turno con 9.706 voti, pari al 41,56%, doppiando Antonio Spazzafumo fermo a 4.452 preferenze per una percentuale del 19,06%. Al terzo posto ecco l'avvocato Paolo Canducci dei Verdi con 3.794 voti, pari al 16,24%, che precede la dottoressa Aurora Bottiglieri, candidata sindaca del Partito Democratico, con 3.679 preferenze ed una percentuale del 15,75%. Una vera e propria debacle per il Partito Democratico, che passa dal 21,38% di 5 anni fa al 7,95% di oggi. 1.724 voti, infine, pari al 7,38% per Serafino Angelini del Movimento 5 Stelle. L'affluenza è stata del 59,9%, equivalente a 24.070-20 diritto, che si sono recati alle urne. Soddisfatto per il risultato il sindaco uscente Pasqualino Piunti. Insomma la città si è espressa già chiaramente, saremo ancora tra i nostri concittadini a spiegare tutto ciò che questa amministrazione in questi cinque anni, anche se difficoltosi per via prima del terremoto, poi della pandemia, comunque ha prodotto, è quello che vorremmo fare, sempre diciamo con l'esperienza che abbiamo avuto, ma anche con tutte le situazioni che abbiamo affrontato e che saranno funzionali e a dare risposte sempre più mirate alla città e ai cittadini. Tra le liste che le appoggiano, Fratelli d'Italia, primo partito, Lega al secondo posto. Sì, insomma erano partiti che nel 2016 addirittura la Lega non c'era, Fratelli d'Italia aveva una percentuale molto più bassa, oggi invece c'è un centrodestra unito insieme alla mia lista civica e alle altre realtà che mi hanno appoggiato, che hanno creato una bella squadra. Sì, Forza Italia ha fatto la sua partita in linea con quelle che sono le percentuali nazionali, anzi a San Benedetto probabilmente ha avuto sicuramente una buona performance insieme. Naturalmente ci tengo a ringraziare uno per uno tutti i cittadini sanbenedettesi per questo risultato e per questo gesto e questo atto d'amore che hanno avuto, insomma, verso la mia persona ma soprattutto verso ciò che questa amministrazione ha prodotto. Grazie veramente al più profondo del cuore.